Sono 228 le violazioni accertate dalla Polizia Locale sulle strade di Trieste per il report del mese di agosto. L'attività capillare sul territorio ha permesso di rilevare quali siano le condotte degli automobilisti del capoluogo regionale e quali siano le disposizioni del codice della strada più violate. Tra i provvedimenti sicuramente spiccano gli 83 verbali redatti per la guida senza le cinture di sicurezza. Altro dato elevato sono le 56 sanzioni per la mancata revisione periodica del proprio veicolo. 30 automobilisti invece hanno violato l'articolo 173 del codice della strada, l'utilizzo del cellulare alla guida, fenomeno a cui prestare massima attenzione visto che genera l'elevato pericolo di trovarsi coinvolti in un incidente. 19 sanzioni sono state elevate per la mancata assicurazione obbligatoria, ma i controlli hanno fatto emergere anche 18 casi di utilizzo di macchine che erano state sottoposte a sequestro. 12 persone invece sono state sanzionate per l'utilizzo improprio del contrassegno disabili. Infine 10 verbali per la circolazione senza casco a bordo di moto o scooter. Alcune violazioni legate alla sicurezza hanno avuto una decisa impennata, tre o quattro volte superiore rispetto ai risultati del report precedente, quello del mese di luglio. In particolare balzano in avanti le mancate revisioni dei veicoli e i casi di guida senza cinture di sicurezza.